Ami Katana 1225-1215, entrambi gli ami differiscono fra loro per il filo, l'amo 1215 rimane leggermente più sottile rispetto al 1225, l'amo è un classico back, per capirci l'amo classico da orata, micro anello, questo ci consente di poter legare direttamente sull'anello, non sul filo del lamo e ovviamente questo ci consente di poter innescare i nostri anelli, anche quelli più sottili, più delicati, ami molto resistenti, sempre da casa Maver in tutti i Maver Point in Italia.